Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continua il corso di montaggio video con Adobe Premiere e lo riprendiamo da dove lo avevamo lasciato qualche mese fa, ovvero parleremo di Color Correction Una piccola pausa abbiamo dovuto farla per sistemare il sito internet per preparare un po' di novità che prenderanno vita nei prossimi mesi quindi continuate a seguire il sito www.fabioambrosi.it e soprattutto la pagina facebook cercate Fabio Ambrosi, seguitela perché lì verranno presto rilasciate alcune novità per quanto riguarda il corso di Premiere, Adobe Premiere ma anche per altri corsi e altri tutorial che prenderanno forma all'inizio del prossimo anno Basta così, dicevo, eravamo rimasti in sospeso con la Color Correction ho già anticipato il fatto che non parleremo di come si fa Color Correction in generale, visto che il tema è molto, molto, molto complesso richiede esperienza, richiede anche competenza chi vi parla sa come funziona, ma io non sono un esperto di Color Correction non sono un colorist, non sono un direttore della fotografia quindi quello che io posso dare con questo tutorial è un'infarinatura su come funzionano gli strumenti che mette a disposizione Adobe Premiere per fare Color Correction e di questo parleremo prima però qualche precisazione e qualche consiglio e qualche riflessione va fatta su che cos'è la Color Correction e su quali tranelli può riservare il nostro occhio e il nostro cervello quando lavoriamo alle immagini dei nostri video innanzitutto è importante, è importantissimo avere un monitor adeguato per poter modificare i colori delle nostre immagini e per poter vedere bene che cosa accade ai nostri video esistono tanti monitor in commercio purtroppo vale qui la regola che più volete un monitor di buona qualità più dovete spendere io vi consiglio di cercare online un monitor per poter lavorare con i video senza però imbattervi per forza nei monitor tarati nei monitor certificati per la Color Correction questi monitor che sono sicuramente il top hanno dei prezzi per adesso ancora abbastanza elevati quindi sicuramente cercate un monitor buono ma se siete all'inizio non preoccupatevi troppo di comprare dei monitor professionali per il momento, a meno che non lavoriate a progetti veramente importanti è totalmente inutile però ecco, non sottovalutate l'importanza dello schermo altro consiglio chiaramente quando lavoriamo con la Color Correction è lavorate sempre con immagini di ottima qualità e soprattutto lavorate sempre con immagini per quanto possibile poco compresse quindi evitate di fare Color Correction ad esempio su file scaricati da internet o su MP4 super compressi non perché non sia possibile ma perché la quantità di informazioni che hanno quei file è limitata e quando andrete a lavorare con la Color Correction chiaramente ne risentirete fate queste premesse una piccola considerazione sull'occhio umano è vero che dovete allenare il vostro sguardo per capire un'immagine quali difetti può avere in termini cromatici o in termini anche di resa però purtroppo spesso e volentieri l'occhio umano è traditore non sempre quello che vedete sullo schermo è poi in realtà quello che è insomma parliamo delle illusioni ottiche più che illusioni ottiche parliamo delle illusioni cromatiche vi faccio un esempio guardate questa immagine e ditemi il quadrato A e il quadrato B se secondo voi hanno lo stesso colore oppure se sono due colori differenti pensateci un attimo il quadrato A e il quadrato B hanno lo stesso colore secondo voi o sono due colori differenti questo un grigio più scuro e questo un grigio un pochettino più chiaro diciamo io ad occhio direi che questo quadratino B ha lo stesso colore del quadratino questo bianco solo che l'ombra del cilindro ecco va a scurirlo un pochettino mentre sono abbastanza certo ad occhio che il quadrato grigio scuro che vedete qui sotto l'ombra è in realtà lo stesso quadratino A ma ha colpito dall'ombra quindi appare più scuro giusto? no 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 è sbagliato completamente sbagliato è come facciamo a scoprirlo aprite Photoshop come ho fatto io in questo momento caricate un'immagine tipo questa ne trovate tante su internet a vostra disposizione aprite il pannello informazioni eccolo qua e passate con il vostro mouse sopra al quadratino A leggete questo valore qui RGB che valori trovate? segnatevi lì perché sono molto molto importanti abbiamo 120 120 120 ok? questi sono i valori RGB del colore del quadratino A andiamo a vedere se il quadrato che avevamo dato per identico sotto l'ombra è effettivamente questo guardate no questo quadrato ha un valore RGB di 62 62 62 quindi questi due quadratini il quadrato A e il quadrato sotto l'ombra mettiamolo così più scuro sotto l'ombra in realtà hanno due colori differenti non sono lo stesso colore non è l'ombra che falsifica le cose torniamo all'inizio avevamo detto guardate il quadrato A e guardate il quadrato B secondo voi il quadrato A e il quadrato B hanno lo stesso colore? guardiamo 120 120 120 qui 120 120 120 eppure guardando il quadrato A e il quadrato B io avrei giurato che avevano due colori differenti invece no è lo stesso identico colore ma il nostro occhio ci inganna e ci fa credere qualcosa che in realtà che in realtà non è un altro esempio guardate questi due cavalli ok? apparentemente il cavallo di sinistra e il cavallo di destra hanno due sfumature differenti giusto? no non è così il cavallo di sinistra e il cavallo di destra hanno esattamente la stessa sfumatura di colore dal giallo al blu anche qui passate con il mouse sopra per scoprirlo e potete vederlo cosa sta accadendo sta accadendo che il contesto in realtà inganna il vostro occhio guardate questa immagine anche qui ultimo esempio potreste giurare che io abbia inserito una sfumatura sul quadratino sul rettangolino centrale giusto? e invece no e invece no il quadratino centrale se guardate se passate con il mouse e con photoshop e guardate qui sempre l'RGB nel pannello info vedete che il quadratino il rettangolino centrale ha un valore costante costante di 147 147 147 nell'RGB sia a sinistra sia a destra non c'è nessuna sfumatura l'unica sfumatura inserita in questa immagine è quella dello sfondo che chiaramente guardate guardate sempre l'RGB a sinistra è più scuro e a mano a mano che va a vesto a destra diventa diventa più chiaro eppure lo sguardo ci tradisce il nostro occhio ci fa credere che il rettangolino al centro ha una sfumatura che poi in realtà alla fine non c'è questo per dire cosa per dire che quando si lavora la color correction è sicuramente importante alla fine quello che l'occhio umano vede perché poi quello che vedete voi probabilmente è anche quello che vedrà lo spettatore finale ma se volete avere la certezza che quello che state vedendo è in realtà quello che state vedendo dovete utilizzare gli strumenti gli strumenti di analisi e anche di questo parleremo nelle prossime lezioni quando vedremo gli strumenti che Adobe Premiere mette a nostra disposizione per lavorare con la color correction nella prossima lezione vedremo il pannello Lumetri Color in Adobe Premiere vedremo cos'è come funziona e quali sono i parametri che potete modificare per cambiare il colore e il look delle vostre immagini www.fabbiambrosi.it il sito internet per leggere l'articolo di questa lezione iscrivetevi a questo canale se vi è piaciuto questo tutorial e soprattutto per seguire anche i prossimi che verranno a breve e cercatemi su Facebook la pagina è Fabio Ambrosi iscrivetevi segnatevi registratevi seguitemi perché lì daremo tante informazioni nuove sui prossimi corsi e sulle prossime lezioni ciao grazie alla prossima